Oggi siamo in aula in Skill Lab per questo business game economico-finanziario che si chiama Income Outcome. È una metodologia interattiva e anche molto divertente in cui i partecipanti sperimentano la gestione di un'azienda e quindi si approcciano ai temi economico-finanziari. La simulazione ludica aiuta quindi a capire i concetti che generalmente vengono spiegati in didattica in aula frontale e quindi anche più di difficile apprendimento.